E' partita la raccolta delle firme di Unione Popolare, di fronte ai saltimbanchi della politica, quelli che saltano da una parte all'altra pensando non ai bisogni della gente ma solo alle poltrone, noi in pochissimi giorni abbiamo messo in campo una squadra di persone credibili, coerenti, oneste, libere e coraggiosi, l'Unione Popolare. Ho avuto l'onore e l'onere di essere stato indicato, come la legge impone, come capo politico ed è per questo che abbiamo indicato anche il nome in modo che in poche settimane si possa identificare al meglio il portavoce nazionale con un progetto che è collettivo, che è inclusivo, che è ampio, che è plurale, fatto di associazioni, movimenti, partiti, reti civiche, collettivi, comitati, come piace a noi fare politica tra la gente e con la gente. È partita la raccolta di firme perché ci costringono anche a prendere le firme, mentre i centri di potere, i saltimbanchi, i circhequestri, i politicanti di mestiere si spartiscono poltrone, noi parliamo alla gente con il nostro programma che inizierà a circolare e dobbiamo raccogliere anche 50.000 firme, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di cittadini, cittadini militanti per la democrazia. Riprendiamoci la democrazia nel nostro paese.